alex revelli sorini giuliano giulietta sodi per la regia televisiva franco boschi di james balia franco siamo in un antico feudo l'antico feudo di valiano mille anni di storia qua e siamo dentro l'energia vitale che si è prodigata per circa mille anni in pratica ci troviamo in una vigna che state vedendo anche dall'altro grazie alle immagini che ci hanno messo a disposizione con l'elicottero perché parleremo di qualcosa che è legato alla biodinamica al vino ma anche all'agricoltura che è così importante da diversi secoli in quest'area per dare prosperità alla comunità esatto qui siamo proprio nel regno del vino l'oro rosso parliamo di montepulciano la toscana seguiteci fra poco stiamo per cominciare alex revelli sorini giuliano giulietta sodi per la regia televisiva franco boschi di james balia che ci sta portando in un viaggio in un antico feudo prima di tutto localizziamo anticolo feudo di valiano antico feudo di valiano sono oltre mille anni di storia siamo nel comune montepulciano e siamo addirittura in uno stato cuscinetto tra cortona perugia e montepulciano firenze noi stiamo vedendo quelle immagini anche dall'alto perché subito abbiamo pensato di entrare in questo antico feudo in un elemento legato al vino perché qui dove siamo esattamente siamo una vigna tonda pensa alex questa è una cosa particolarissima e sentiamo subito alessio gorini che è qua l'agronomo e biodinamico di questa grande azienda cosa ci vuole dire azienda vignonesi carissimo sei giovani tu però 28 anni scelta professionale scusa dettata dal caso dalla passione dalla passione si direi dalla passione da sempre i miei genitori sono stati legati alla terra e quindi per me era mi sono avvicinato con la gioventù al vino e poi c'era veramente questa simbiosi voler capire qual era il legame tra la terra e il vino e quindi piano piano ho continuato i miei studi dopo firenze in francia e ho fatto una bellissima esperienza qui siamo al centro di una vigna particolarissima sto vedendo anche dall'immagine dell'elicottero che ci hanno fornito con questa circolarità è un concetto non è un disegno che voi avete realizzato come magari in texas fanno i campi tondi per evitare che il vento no abbatta negli e nelle punte acuminate del del campo la la coltivazione invece qui l'avete fatto tondo perché questa è una vigna sperimentale innanzitutto siamo su del san giovese e l'obiettivo era quello di studiare quali sono gli effetti dell'aumento delle densità di piantagione sulla qualità delle uve adesso vignonesi vinifica queste uve in maniera integrale però fino ai primi anni sono state separate i diversi blocchi a densità sempre più crescenti via via che si entra all'interno della della vigneto per studiare appunto quali erano l'impatto scusa mi semplifico quindi le le viti che sono piantate all'esterno del cerchio mano a mano diminuiscono la loro distanza per arrivare vicino alle le unalea che spazio c'è fra perché per fare questo cerchio preciso come sto vedendo è una cosa geometrica sembra che leonardo ci ha messo sì sì diciamo si parte da una distanza di tre metri all'inizio fino arrivare a un metro di distanza alla fine spiegaci un po che cos'è il biodinamico allora il biodinamico è una filosofia che nasce negli anni venti grazie a un antroposofo di nome rudolf steiner al quale si erano rivolti molti agricoltori che piano piano cominciavano a vedere le loro terre impoverirsi steiner non ha fatto altro che proporre una visione dell'agricoltura polistica dove si prende in considerazione non il singolo elemento come la pianta il suolo e l'atmosfera ma è una visione completa è fondamentale la biodinamica per mantenere i nostri suoli vivi un suolo vivo è un suolo che ha molto ossigeno a disposizione quindi le radici possano approfondire nel terreno e da lì possiamo davvero cominciare a parlare di espressione del territorio quest'area di confine fra siena arezzo perugia aveva anche una torre che doveva difendere gli abitanti contro contro cortonesi e contro gli aretini chiaramente valiano e qua il feudo l'abbiamo qua sulla nostra destra questa torre di palazzo vecchio siamo da palazzo vecchio oggi qua in questo colle come nel cinquecento vediamo la disposizione dei vigneti che si pongono tutti in cerchio come un cerchio magico intorno all'edificio torre in pratica noi lo stiamo vedendo anche dalle immagini dell'elicottero si riprende il concetto stesso della madre natura che si nutre dell'energia solare quindi non c'era ricerca scientifica ma c'era il buon senso esatto si conviveva veramente in stretto rapporto con tutto quello che era l'energia vitale di madre natura tu mi dicevi poi dell'elemento qua legato al concetto del palazzo vecchio palazzo vecchio si questa qua agnola contucci 1554 lasciò con un testamento tutto all'ospedale degli innocenti di firenze di piazza santissima annunziata tutto il grande feudo che aveva qua e qua agli ospedali innocenti amministrato per circa tre secoli tutto questo grande feudo e infatti anche qua vicino alla torre vediamo lo stemma che identifica il putto del bambino fasciato dell'ospedale franco delle viti con i nomi iscritti nel palo di capo testa è la vigna scuola di palazzo vecchio qua che maria luisa benadori ci racconterà veramente qual è l'arte qua di insegnare anche il vino territoriale si è un vino territoriale iniziato di vigne che già esistenti mio nonno prese negli anni 50 mio padre cominciò diciamo la ristrutturazione dei vigneti qual è la filosofia che cerchi di portare avanti perché mi sembra vedo le scritte delle varie tipologie di cultivar quindi di conseguenza si vuole far sapere si vuole passare delle conoscenze continuiamo a rimancare il fatto che siamo territoriali e per cui queste sono vini che hanno dai 45 ai 70 anni e qua è una piccola insegniamo alle persone che vengono da tutte le parti del mondo a riconoscere insomma la nostra topologia di uva lavoriamo col sangiovese il cannaio allo nero e il mammolo ma essendo vigne antiche io dico si usava avere anche piccole altre differenze che rapporto c'hai tu con questa terra questa energia noi stiamo dicendo che oltre mille anni questo feudo di valiano mi confermi che anche voi state seguendo un elemento che sia sempre in collegamento assolutamente sì io mi sono anche trasferita qua quindi questa è una testimonianza come si dice il cambio generazionale cerco di portare avanti il più possibile quello che anche prima di mio nonno veniva fatto per cui riprendendo discorso della vigna dell'orto e cercando di avere seguire un'identità com'è l'identità dell'azienda che a conduzione familiare tu qual è la cosa che ti piace di più fare nell'arco del ciclo agricolo il momento vendemmia la vendemmia ma la campagna ogni momento ogni stagione è un motivo per portare avanti seminare stai in centro in questa casa no perché vedendola anche dall'alto io ho scoperto che sei al centro della raggera del tuo vigneto quindi l'energia che ti viene a calamitare tutto intorno dalla natura si è un 360 gradi palazzo vecchio cuode di un microclima molto particolare il suo vigneto è fatto a raggera quindi è completamente in 360 gradi intorno all'azienda soprattutto i giovani hanno testimoniato con noi questa esperienza legata alla terra allo ammettamento alla biodinamica oggi alle vigne però tu hai dei soci di james balia caro franco boschi che sono stati protagonisti in questa zona sono la testimonianza storica vera ora li sentiremo giorgio avanzati e graziano buchetti sono i nostri soci che ci raccontano giorgio tu a tre generazioni quattro avete lavorato in questa dunque sì qui il mio trisnonno ha stipulato il contratto di mezzadria hanno un podere qua giù chiamato di nome banditella qual'era il numero dei 1866 1866 quant'era il numero dei componenti della famiglia quel tempo 10 o 12 tutti lavoravano nei campi tutti lavoravano nei campi ma tu che te ti sei fatto perché hai fatto anche tu poi lavoro in campagna per io lo faccio anche ora lo faccio sono che i dati sei fatta di questi concetti biodinamico biologico e mi sono fatto un concetto che è migliore di quello che si facevano coi concimi tradizionali prima e tutti gli altri prodotti che se che si usava per trattamenti delle piante dell'animale in che tipo di prodotti venivano coltivati qui allora grano mais frutti il vino e l'animale fra tutte e fra tutte le cose che facevano qui qual era secondo te una delle più buone che a te piaceva personalmente a me la zutinia la razza chianina la chianina la chianina perché io sono tu che poi invece non è fatto l'agricoltore tu si vede fatto il bancario si è fatto il bancario il figlio di uno che lavorava qui si mio babbo era qui il re del magazzino della cantina diciamo e tu facevi giocavi in questa io sono cresciuto qui in questo ambiente qui c'era la chiesa per dove serviva la messa non avevo concorrenti come avaliano quindi il campanellino lo suonavo sempre io ascolta mi hai scritto anche diversi libri fra l'altro il primo libro si questa fattoria mi segue sempre ormai mi ha segnato il destino il primo libro ho scritto su questa fattoria 1300 copi lo pubblicai da me come prima esperienza cosa c'era scritto su questo libro che hai aneddoti che ho vedevo non solo miei anche delle persone anziane cosa mi raccontavano ti posso dire c'era per esempio un aneddoto curioso che qui dal dall'ultimo piano c'era una fattoressa che negli anni 30 con una lampada faceva un segnale a un campanile io non ho messo il nome del parro come l'hanno capito tutti questo parro che arrivava di notte e facevano una piccola funzione insomma e poi un giorno la guardia se ne accorta una guardia che non dormiva sentite rumori la fattoressa dice non ti preoccupi sul limone sto strizzando il limone perché a certo punto si accorto troppo che affacciandosi da queste finestre che c'era un calesse qua e il prete che andava via e la volta dopo gli hanno nascosto calesse a prete anzi l'hanno portata a valiano con un altro calesse lui è andato a casa a piedi alex ravelli sorini giuliano giulietta sodi per la regia televisiva di questo programma siamo in un'area della toscana valdichiana esattamente dove valiano di montepulciano siamo a confine tra tre province perugia arezzo e siena siamo qua perché questo è un antico feudo che per quasi mille anni ha tramandato saperi e lo stile della qualità della vita è stato altissimo si è direi offerto prosperità alle sue genti prosperità questo popolo veramente ha attratto tutta l'energia da questo territorio e pensa il primo documento storico che abbiamo qua con la presenza è del 1114 si trova presso la chiesa di città di castello dove il ragneri di bourbon del monte veniva citato come marchese del castello di valiano allora questo era un importantissimo feudo tu Franco Boschi di Gensvalia avete fatto diverse ricerche vediamo anche le immagini dall'elicottero che testimoniano un po' tutta quest'area era un'estensione importante era un grosso dominio era un grosso dominio appunto che si trovava a cavallo di queste tre province è un triangolo magico chiaramente perché queste colline veramente hanno dato dei frutti altissimi tutt'oggi sono quasi tutti a vigneto come abbiamo visto dalle riprese aeree e sono vigneti di qualità eccezionale perché qui si coltiva il vino nobile di Montepulciano Franco oggettivamente queste cantine avignonesi ci stanno offrendo un'esperienza legata al biodinamico molto interessante ma approfondiamola no questa cosa? approfondiamola veramente con la persona qua che fa comunicazione per avignonesi te la presento Elena Buscelli guarda che non è italiana io non sono italiana no io sono danese di origine ma com'è che ti stai trovando in quest'area della Toscana e della Val di Chiana in specifico? ma io sono probabilmente l'unica danese che non beve birra e quindi il vino per me è stata sempre una cosa importante io ho studiato l'italiano all'università e quindi mi sono trasferita qua dopo gli studi ho trovato la qualità della vita sì qualità della vita l'immensità del paese ascolti io conoscevo storicamente questo tipo di esperienza in quest'area della Toscana però poi viene degli stranieri mi racconti questa cosa che dicono no facciamo un'esperienza biodinamica sì infatti nel 2009 viene Virginie Saveris dal Belgio che viene da tutt'altro settore lei era armatore la sua famiglia costruiva navi però lei voleva un cambiamento d'aria si era già trasferito in Toscana questa cosa è il biodinamico sì perché il suo stile di vita è quello lei è vegetariana e una che si è curata sempre con l'omeopatia crede nelle cose naturali e secondo lei proprio essere viticoltore vuol dire dover garantire a chi beve il vino che beve una cosa sana e genuina ma allora queste vigne fatte a cerchio fatte a ozzettonce non sono estetiche mi confermi che c'è veramente una coerenza di sentire? ma quello sicuramente ora la particolarità di queste vigne come sono fatte quelle erano già state fatte così dai vecchi proprietari erano sperimenti sulla densità di impianto e su altre cose quello che ha fatto lei è portare questa sperimentazione la valutazione della terra a un passo oltre lei ha introdotto la biodinamica che vediamo tutti i giorni nei vigneti vediamo che il vigneto è diventato vivo cioè se si scava nel suolo viene fuori la vita è cambiato il colore della terra da un grigio marrone a un marrone proprio acceso il suolo è poroso è veramente cambiato in questo feudo di Valiano caro Franco Boschi tu hai anche delle evidenti tracce della storia esatto la rocca del feudo di Valiano aveva le sue torri di difesa e qui siamo ai palazzi dove qua esiste la torre che doveva difendere Valiano dall'attacco dei Perugini quindi Valiano si trovava come mi hai spiegato in centro fra Perugini, Senesi, Aretini e doveva avere un insieme di sistema difensivo che potesse proteggerla al meglio da ogni lato esatto qua proprio si difendeva sul lato del Trasimeno chi arrivava dal Trasimeno passava da questa torre quindi i segnali che arrivavano dentro il castello erano favorevoli o non favorevoli ma questa torre è continuata a vivere perché abbiamo detto mille anni sta andando avanti e c'è qualcuno che ci sta facendo un tipo di esperienza e qua ha scelto questo luogo magico come vedi è il grande maestro Massimo Scarfagna con la sua moglie la comunicazione la fai tu per lui vieni più in quanto nella raccontami voi oltre 30 anni che vivete oltre 30 anni che lavorate vivete in questa zona in questa torre sì siamo venuti nell'85 che è l'anno della gelata degli olivi e non è casuale che allora lui lavora sull'olivo come materia no infatti perché poi lui ha incominciato questo percorso di recupero di questi olivi morti che hanno stati strapiantati abbandonati pronti per essere bruciati e lui ha incominciato a recuperarli qualcuno anche antichissimo 100, 200, 300, 400 anni olivi meravigliosi li ha tenuti 20 anni a stagionare perché chiaramente è un legno che bisogna aspettare e dopo 20 anni nel 2005 più o meno ha incominciato a lavorare sugli olivi è una buona, va bene l'hai assunta come comunicatrice tua moglie devo dire che la materia viva che si perpetua nella terra noi stiamo in questo percorso evidenziando che crediamo sia una terra magica cioè baciata dalla madre natura che con il sole riesce a rigenerarsi anche voi mi date la vostra testimonianza l'olivo è proprio secondo me veramente un testimone di questo perché è una pianta meravigliosa non esistono due olivi uguali prende la terra, la luce e ha queste forme meravigliose di per sé è un'opera d'arte Palazzo Vecchio una delle fattorie poi dell'antico feudo di Valiano dove cerchiamo di trovare un'altra indicazione interessante del grande valore di questo territorio questa terra madre che ci dà dei prodotti eccezionali Gesvalia cosa ha fatto Franco? ha riscoperto questo frutto della Val di Chiana un frutto agreste, un ortaggio è l'aglione si era persa veramente la tradizione di coltivarlo e l'abbiamo riscoperto perché ha una proprietà bellissima cioè è senza allina questo frutto ci puoi fare i famosi pisce e l'aglione senza dover modificare aglio comune e aggiunta di altri tipi di aglio che è perfetto ad un gusto raffinatissimo gusto raffinatissimo la persona che è qui con noi chi è? è Daniela Filippi la fiduciaria qua della condotta Montepulciano Chiusi di Slow Food allora Slow Food perché questo è finito nell'arca? si è finito proprio nell'arca del gusto appena siamo stati contattati diciamo che è il nostro obiettivo prioritario quello della riscoperta di certe produzioni allevamento tutto ciò che concerne e gira intorno al cibo di tutelarli, farli conoscere, valorizzarli soprattutto proprio per la tradizione territoriale allora quando uno dice aglione in Toscana una cosa grossa infatti non è che bisogna aver studiato o avere conoscenze scientifiche profonde fra l'altro tu l'hai piantati carissima proprietaria qua davanti a noi stanno venendo, crescono sul serio nel senso che c'è stata questa riscoperta e l'aglione aveva anche finalità curative nella comunità contadina qua lo utilizzavano perché alla fine è un antisettico è un antisettico, combatte il colesterolo utilizza veramente le proprietà migliori per rendere le vie cardiocircolatorie pulitissime è un veramente... tu l'hai mangiata roba con l'aglione, sì eh beh oltre che pici con che lo faresti? eh ma si fanno tante cose, le frittate anche eccezionale comunque resta il fatto che guardate di che misura riesce ad essere un aglio meglio in camicia o senza camicia? senza camicia però va detto questo che il nostro esempio qua è un esempio che come vedi porta all'infiorescenza questa va tolta prima che diventi fiore e questo qua cresce quasi il doppio di quello che vediamo arriva fino a 800 grammi ti pensa che Maria Luisa ha già piantato il primo anno che gli abbiamo appunto donato la parte dei bulbilli e qua avremo il primo raccolto che si attesterà intorno agli 800 grammi bellissima Val di Chiana Franco Boschi e Giasvalia c'è un viale di Cipressi a te tanto caro tanto carissimo perché veramente la strada antica degli Etruschi che si muovevano da Chiusi a Cortona i romani poi sono passati con la via Cassia Vetus la Consolare che univa e andava in Europa siamo scesi sotto nelle cantine qua dell'azienda e con piacere scopriamo altri interlocutori abbiamo qua l'enologo abbiamo grande Simone e abbiamo Alessio che l'abbiamo conosciuto già nella vigna con l'agronomo abbiamo detto questo concetto del biodinamico no? va a finire anche sul vino credo certamente certamente è un eccezionale strumento che ci permette di fare dei vini buoni e soprattutto sani voi adesso ci farete vedere in questa cantina storica qui da quant'è che ci fanno il vino? scusa se lo chiedo lo sai? qui lo fanno da fine 1800 quindi lo devi far bere per forza cioè lo sai hai coscienza che non puoi sbagliare sicuramente sicuramente abbiamo detto biodinamico è un insieme di operazioni che vengono fatte e mi hai mostrato il terreno che serve terriccio qual è il termine più giusto? questo è un preparato diciamo il preparato più importante per la biodinamica si chiama 500 è fatto attraverso un processo particolare la cacca della vacca viene messa durante l'inverno per sei mesi all'interno di queste corna di vacca che sono interrate e durante questi sei mesi succede un processo molto particolare quello che si cerca nella biodinamica è quello di durante il periodo invernale con questo preparato di raccogliere quelle che sono le forze cosmiche rivolte verso il suolo e stoccarle in questo preparato ecco invece volevo capire ma questa terra che va a irrorare le vostre viti poi riesce a offrire forze d'energia per il famoso vino sicuramente i vini che si ottiene da questi vigneti hanno una vitalità eccezionale e permettono di avere anche una longevità pazzesca e una qualità unica e soprattutto è la piacevolezza che aumenta già dal primo anno dal quale abbiamo realizzato i vini ottenuti da questi vigneti i tre calici li mettiamo qui non è mica blasfemo mettere il vino vicino al terriccio credo perché sapete che in tanti carissimo hanno perso il legame con la terra spesso si pensa che ciò che è nei scaffali dei supermercati arrivi e sia l'industria che l'ha prodotto invece è stato reciso questo cordone umbilicale invece questo qui metti qui i tre calici viene fuori da questa diciamo che è un elemento molto importante per il nostro vino appunto come diceva Matteo un vino per essere deve essere soprattutto autentico e per essere autentico deve rispecchiare il territorio la biodinamica ci permette di tutelare il territorio e quindi di poter fare dei vini autentici cosa stavi versando qui? adesso sto versando il nobile di Montepulciano 2011 a Vignonesi fatto solo con uve 100% Sangiovesi Alex Revelli Sorini, Giuliano Giulietta Soddi per la regia televisiva le immagini vi arrivano da una parte della Toscana molto pregiata Montepulciano ma nell'esattezza Franco Boschi di Gensvalia dove siamo? siamo a Valiano, l'antico feudo medievale qua tra le province di Siena, Arezzo e Perugia dove per oltre direi mille anni la vita si è perpetrata ha sviluppato l'agricoltura, la prosperità della comunità esatto esatto questa è una zona magica è una zona magica la terra qua ha dato sempre dei frutti preciatissimi e eccezionali in questo momento siamo veramente tra le madri del vino nobile abbiamo la fortuna di vedere anche con le immagini dall'elicottero che ci ha fornito Gensvalia una vigna particolare, sto vedendo un disegno geometrico un disegno geometrico, questa qua è la vigna settonce sono dei triangoli che ricomposti producono un esagono e tu pensa che all'interno queste singole vigne, queste singole viti sono equidistanti uno dall'altro per non influenzarsi quindi massimo di energia, massima di vitalità sotto l'aspetto esoterico visto che tu hai questo compito e dopo parlerò con il nostro agronomo è un legame con la terra per dare un avere in maniera ecosostenibile un ecosostenibilità e anche energia vitale cioè avere un rapporto diretto in equilibrio e in armonia con la terra tu sai fare il coltivatore, l'orto lo fai almeno? certo che lo faccio, dopo ti dirò anche cosa coltivo vabbè d'accordo ok allora questo che è qui accanto a noi è un agronomo un grande agronomo è Alessio Gorini, eccolo qua dell'azienda Vignonesi che è proprietaria di questa struttura prima domanda è questo tipo di vigna con questo disegno geometrico ha una funzione estetica, c'è una legato qualcosa di ricerca scientifica? innanzitutto questi triangoli sono stati costituiti per rispettare al massimo quelle che erano le pendenze naturali di questa parcella quindi ogni triangolo ha una particolare pendenza e questa è la ragione per cui sono stati separati l'uno con l'altro ah c'è un motivo quindi anche per il discorso dell'irriguazione dell'acqua soprattutto garantire l'esposizione al sole di ogni ci sono diversi risultati che vengono anche poi nella vinificazione in base a queste attenzioni che si ha nei rapporti con la terra perché parliamo di biodinamica credo sì 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 stiamo parlando di biodinamica e soprattutto quando noi parliamo di biodinamica il discorso si chiude con la bottiglia quindi ciò che facciamo qui in campo si deve anche poter rispecchiare nel gusto e nel vino una connotazione ulteriore per quanto riguarda questo rapporto della biodinamica la sua filosofia è direi preservare e mantenere madre natura creare una simbiosi fra l'azienda in toto e la terra che va a sfruttare mi sembra che siano concetti antichissimi che per oggi sono stati ripresi con un approccio ecosostenibile sì certo sono saperi che diciamo in una certa maniera sono sempre esistiti solamente che piano piano l'arrivo dell'agrochimica ha completamente cancellato questi saperi diciamo ci siamo resi conto che ad oggi se non ritorniamo facciamo qualche passo indietro non possiamo più avere né dei terreni che sono sani e che quindi possiamo trasmettere alle future generazioni e soprattutto dei terreni che ci garantiscono un prodotto che sia il più tipico possibile e il più in salute possibile terra rossa un'altra delle eccellenze che testimoniano il passare del tempo in questi vigneti esatto qua veramente siamo di fronte a un'opera mirabile architettonica come vedi l'ospedale innocenti nel organizzare il feudo in fattoria deciso di realizzare qua nel 1752 questa doppia torretta dove al suo interno e nei locali sottostanti venivano allocati i vini prodotti da questi meravigliosi vigneti e tutta la produzione cerealicola allora lui che non gli posso non chiedere un avanti chiami di nome come è Fabrizio Fabrizio ma sei cosciente che stai in una zona che oltre mille anni è in simbiosi terra energia solare si siamo siamo molto coscienti abbiamo anche molto rispetto di questo della storia del territorio delle costruzioni dei vigneti di tutta la terra insomma che ci abbiamo stiamo cercando di coprire se è solo immaginario o è anche emozionale anche l'elicottero ce lo sta mostrando questo territorio questo concetto che il rispettare la terra ci fa ottenere prodotti migliori ma no no non è soltanto una cosa di fantasia è pura realtà certo il rispetto della terra come garanzia diciamo di prodotti finali e come rispetto proprio della natura stessa quindi che anche in futuro i nostri figli i nostri nipoti avranno sempre diciamo a disposizione un territorio ben curato e ben mantenuto è il momento nel quale vediamo i prodotti della terra che finiscono sopra la tavola perché dobbiamo sempre chiudere il ciclo no? non è come da un grande supermercato dove tu prendi e il prodotto non ha un'identità qui siamo su qualcosa che ha un'identità avaliano è il territorio che arriva sui nostri piatti è il cibo che soddisfa i nostri palati allora la cuoca che ha fatto la cosa chi è? è Manuela della piccola trattoria Guastini e il marito? è Davide allora raccontatemi è vero che tutti i prodotti vengono qui da questo territorio o no? perché noi stiamo facendo un coerente circuito per comprendere se c'è la possibilità di questa energia di madre terra che si riesca a percepire certamente vengono tutti dal nostro territorio qual è il prodotto secondo te che più identifica la cucina di questa zona? ma sicuramente l'aglione l'aglione allora i pici all'aglione ho visto avete fatto a mano tirata la pasta a mano e c'è comunque sui pici all'aglione una ricetta mi diceva la responsabile del Presidio Slow Food che è certificata sì infatti stiamo lavorando su le certificazioni delle vecchie tradizioni e l'aglione diciamo sconvolgerà questo perché per adesso i pici all'aglione si faceva con l'aglio normale tradizionale tanto aglio invece riscoprendo quello che era originariamente 1400 1500 usato in cucina e verrà di nuovo riproposta la vera ricetta dei pici all'aglione con l'aglione lo vedete nella sua bellissima mostra di sé perché voi di Gensvale avete fatto un recupero interessante raccontami una cosa voi nel realizzare questo menu ipotetico simbolico di Valiano mille anni di storia io ho notato hai inserito anche una preparazione molto ricca e interessante sì e questo è il peposo di Chianina peraltro l'allevamento è qui a un chilometro quindi è veramente insomma un prodotto locale i vitelli nascono e vivono in azienda e in questo piatto viene utilizzato il quarto posteriore il muscolo del quarto posteriore che viene cotto noi utilizziamo un Sangiovese di Montepulciano in questo caso e pepe nero in grani è un piatto rinascimentale che noi riproponiamo però e oltretutto con molto successo tra l'altro la vostra interpretazione ti posso dire che nel taglio della carne la grandezza che hai fatto della carne non è troppo grande rispetto a quella della zona fiorentina qui siamo su qualcosa di molto più contenuto però molto elegante è un elemento ci sono delle ricette che sono legate anche ai libri raccontami mi ricordi il tuo nome? Sì Graziano Graziano tu hai fatto un libro sulle ricette del territorio l'albero da fei d'argento che devo ripubblicare perché è sovritto e ci hai inserito tante degli aneddoti sono le ricette di fattoria che mi ricordavo ho assistito all'ultimo all'ultimo diciamo periodo dove cucinavano ancora come tradizionale come era la tradizione e su queste ricette quali erano forse quelle che identificavano più la fattoria? ma chiaramente i picci c'erano per esempio picciate semplici come anche facevano le uccellette che comunemente chiamate così proprio perché è una ricetta contadina addirittura più che di fattoria perché d'inverno andavano a catturare gli uccelli questi passerotti con vari sistemi varie trappole poi ne vendevano una parte una parte giovane le cuocevano insieme a fagioli adesso però in fattoria le facevano chiaramente come facciamo ora penso con la salsiccia però con un segreto mi diceva un contadino che la salsiccia non va messa con il soffritto diceva ma dopo che le dice la chef? esatto è così esatto una curiosità ancora in questo viaggio noi abbiamo però anche il crostino che tu hai elaborato perché parlando di cibo di fattoria questo era il cibo della festa della domenica di sicuro oggi siamo abituati a mangiarlo ma qui siamo di fronte a cosa? dunque sono fegatini spadellati con mela e cipolla e salvia semplicemente cotti insieme per poco tempo e poi messi su panni tostato il fegatino mi ritorna che nel nostro territorio il fegatino è una bella identità toscana ma perché mi avete montato la panzanella prodotto proprio dalle fattorie d'estate si mangiava ma montata a turbante moderno perché c'è un'esigenza estetica sì esattamente il prodotto è come quello diciamo che veniva preparato una volta però questa presentazione lo rende elegante in definitiva poi per come è il suo sapore e quindi è un piatto che meritava secondo me domanda da 2 miliardi con o senza cetriolo? con cetriolo con cetriolo direi di sì loro qua quest'anno tutti con cetriolo il piatto tipico era la minestra di pane non la ribollita la ribollita tipica di Firenze sì minestra di pane che era comunque un piatto del recupero alla fine come un po' la panzanella è un piatto dell'orto che tu al volo te lo fanno che poi riscaldarla al giorno dopo era diventato ma tu che mangi quella cosa che è perché tu sei bancario ha scritto però non ha fatto il contadino qual è la cosa di questi che godevi di più? io purtroppo tutti tu sei una allora c'è una cosa però che vedete qui accanto c'è un carrettino perché qui a Valiano e poi torniamo sulle ultime preparazioni ogni anno quale domenica viene fatto? quarta domenica di settembre quarta domenica mi ricordi il tuo nome carissimo Giorgio Avanza Giorgio perché lui è un contadino vero di quelli quattro generazioni che hanno lavorato qui in queste 166 un marchio tipo un nobile tu sei nobile perché hai lavorato la terra sei stato anche coinvolto sempre per un lungo periodo in questo palio dei carrettini dove in pratica in due parole chi si incontra? sono sei contrade qui corre il guidatore e qui dietro il frenatore il percorso quanto è lungo? è in discesa a De Duco? sì in discesa è circa un chilometro e 300 metri ok che si fa direttamente qui a Valiano bene l'hai fatta mai tu? ci sei mai salito qui? io sì perché da ragazzino di 5-6 anni era uno dei giochi era il gioco dell'epoca perché non c'erano altri divertimenti però le ruote non erano in acciaio così erano? erano tagliate in un tronco possibilmente di un legno che non screpolava perché sennò era un guaglio dopo si rifacevano di nuovo siamo a chiudere la trasmissione con questo è ravioli di piccione ecco anche qui come mai una cucina comunque abbastanza ricca negli ingredienti? scusa se te lo chiedo ma queste sono ricette comunque della mia famiglia che io ho portato sono quelle che funzionano anche con stranieri esatto sì si è cercato di mostrare una virtuosità di questo vecchio feudo di Valiano ti sei allargato tu su sto Valiano se ti esci stai come un è il triangolo magico come ti dico sempre qua fra? triangolo magico fra? Arezzo, Perugia e Siena siamo veramente incastonato come vedi tra Montepulciano, Cortona e Castiglino dell'Ago più di mille anni di storia, di prosperità il sole vi dà energia esatto qui è l'energia vitale ok grazie a Franco Boschi di Giazvalia e ai nostri interlocutori ricordo la regia del programma è di Giuliano e Giulietta Sodhi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti